Siamo in uno stupendo posto, ok, pieno di gente, pieno di ragazzi, ragazzi, ok, che sono tutti tatuati, ok, tatuati, tatuati, questa è una tattoo convention, ok, ed è veramente stra-fig, ok, c'è parecchi stenti dove ci si può tatuare sul momento e si ha la possibilità anche di bere una buona birra, è perfetto, ok. Ciao, siamo alla tattoo convention a Torino, al Palazzini, io sinceramente sono venuta per guardare le modelle tatuate della Miss Covergirl, che si terrà poi anche a Milano e devo dire che è un posto molto 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 bello. Grazie a tutti!